Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Proprio questa mattina, così per caso, mi sono svegliato circa alle 5. A me capita veramente di rado di svegliarmi a quell'ora e non sapendo che cosa fare accendo la televisione e vedo una puntata di Lupin. Peraltro non una puntata nuova, anzi una di quelle storiche, per cui insomma lì un po' nel dormiveglia mi metto a vedere questa puntata, questo cartone animato. Ora con mio stupore mi accorgo che Jigen effettivamente indossa uno zenith, quindi non è soltanto nella prima serie cosa che io avevo letto che Jigen indossa questo zenith, peraltro proprio l'El Primero, ma anche successivamente, penso, perché appunto nel video, nel cartone animato che ho visto io, si capisce, si vede proprio che lui indossa uno zenith, quindi la zenith è legata proprio con questo personaggio che è Jigen. Jigen è uno dei personaggi principali del manga Lupin III, naturalmente il primo, il personaggio principale è Lupin III, dopodiché c'è Jigen e poi sullo stesso piano troviamo anche Gemon o Gwemon, che sarebbe il samurai e poi non ci dobbiamo scordare che ci sono altri due personaggi fondamentali sullo stesso livello di Jigen e Gemon, che sono Fujiko Mine, che è appunto il personaggio femminile, il personaggio di cui Lupin è innamorato, insomma che li crea anche tutta questa una serie di problemi, e poi c'è il personaggio famosissimo che è l'alter ego di Lupin, che è zenigata, che è un poliziotto, che vive nell'inseguimento, vive per catturare, per arrestare Lupin, quindi dedica la propria vita a questo scopo e in più di un'occasione quando ha arrestato Lupin, quando ogni tanto riesce ad arrestare Lupin sente proprio la tristezza della mancanza di uno scopo nella vita, perché non ha altro per cui vivere, per cui delle persone che sono essenzialmente dedicate, che hanno degli scopi abbastanza particolari, che sono proiettate univocamente a uno scopo, ecco, quale che potrebbe essere l'amicizia, secondo me, nella lettura che do io per quanto riguarda Gemon, che è un samurai che non ha assolutamente bisogno di soldi, e quindi si muove sempre per aiutare gli amici o GEM o Jigen oppure Lupin, e solitamente, insomma, spesso arriva proprio quando la situazione è drammatica, e poi ci sono, ecco, ci sono altri personaggi, Jigen si muove soprattutto per soldi e per amicizia nei confronti di Lupin, Lupin non si sa, se si muove per via dei soldi oppure per lo spirito d'avventura, perché appunto c'ha questa, insegue, no, questo, il percorso che è stato tracciato già dal nonno, quindi proietta, ecco, la sua, la sua vita sulla base, diciamo, di quelle che sono state le, quelle che sono state le imprese del nonno, quindi abbiamo, insomma, un manga anche interessante, peraltro le prime, ci sono alcuni episodi, i primi episodi sono assolutamente qualcosa di bello, io ne ricordo uno dove era protagonista proprio il Gwemo, che è il personaggio mio preferito, perché alle volte sono loro stessi, cioè non è sempre Lupin il personaggio principale, ma sono anche questi, sono anche, possono essere Gwemo, possono essere, può essere Fujiko Mine, può essere Jigen, che Jigen in più di un'occasione ha delle storie d'amore, questo che poi non porta avanti, no, perché dice che tanto comunque sono destinate a finire, però spesso, spesso, Jigen è uno di quelli che, che viene travolto anche lui dalle, dalle passioni, dalle passioni d'amore, mentre invece il nostro Gwemo è soprattutto proiettato nel, nel suo, nel suo destino, il destino del samurai, insomma, del, e quindi in quello viene narrato questo legame che ha con questa spada, una spada che è unica, è tagliente, ed ha, insomma, delle caratteristiche di durezza impressionante, riesce a tagliare, insomma, qualsiasi, qualsiasi cosa, questo particolare episodio, che è uno dei primi, credo, perché veramente era, anche come è disegnato, era veramente qualcosa di antico, e c'è la storia di questo vecchio che vuol costruire, insomma, sta dedicando gli ultimi momenti della sua vita, fa il costruttore di, di spade, e vorrebbe, di katane, e vorrebbe costruire una katana che è più forte di quella di, di Gwemo. Ora, naturalmente, ne costruisce molte, ma nessuna riesce ad arrivare alla, alla, alla forza, le provano proprio, no, uno parte da una parte, quell'altro parte da quell'altra, per vedere quella che si spezza, ma quella di Gwemo resiste, resiste sempre, insomma. Alla fine sarà la, alla fine sarà la nipote che, durante una notte, si introduce nella casa di, nella casa di, di Gwemo, lui si accorge, lui si accorge che lei è entrata, perché, poi se l'aspettava anche, no, perché ci aveva parlato, lei ci aveva parlato, gli aveva detto, guarda, qui il nonno è anziano, insomma, ha questo sogno di riuscire a costruire una spada più forte della tua, bisognerebbe, insomma, accontentarlo, no, in qualche modo, bisognerebbe barare, ecco, per farlo, per farlo contento, no, perché muoia felice, perché, perché comunque abbia questo senso, no, di, eh, di completezza, insomma, no, della vita, di, di aver raggiunto, insomma, questo scopo, però Gwemo si, si rifiuta, insomma, si rifiuta perché, dice, sarebbe una cosa falsa, sarebbe un, mancargli di rispetto, e quindi non acconsente a barare e a farlo vincere. Però durante la notte si accorge che la nipote è entrata in casa e lui fa finta di non, fa finta di non accorgersi, no, e questo è anche importante perché spesso nella vita, e questo me ne sono accorto, bisogna anche in tante occasioni far finta di non sentire, far finta di non vedere. Per cui, in quel caso lì, Gwemo decide di non sentire, apre gli occhi, poi le richiude, quindi anche non, anche non, non vede, fa finta neanche di non vedere, e la nipote sostituisce la spada del nonno con la spada di Gwemo. Quindi, chiaramente, il giorno dopo, il giorno dopo, c'è questo, non duello, ma questa prova, no, di queste due persone che provano le spade, e chiaramente vince la spada di Gwemo, che però è in possesso del nonno. Quindi Gwemo si ritrova a recitare la sorpresa di aver perso, no, di aver visto la propria spada che considerava, insomma, un fedele compagno, no, una risorsa infinita, se la vede così spezzata davanti, e il nonno, a quel punto, morente, no, a quel punto lì è felice, insomma, però morente, perché alla fine, insomma, della vita, gli dona la spada a Gwemo, che gli dona la spada che poi era sua. E quindi ci sono anche questi episodi, che non sono episodi, secondo me, che hanno, insomma, anche un certo spessore, probabilmente, probabilmente riprendono delle leggende giapponesi, probabilmente vengono da, non portano forse nulla di nuovo, ma, insomma, ecco, documentano delle storie di un certo valore, ecco, per cui parliamo, ecco, di un manga che poi, negli anni, è diventato un manga anche abbastanza leggero, perché non ci dobbiamo scordare che in Giappone i manga sono qualcosa anche di serio, e sono dei libri che possono essere anche molto seri, molto impegnativi, non perché hanno questo tipo di, questo tipo di struttura, no, che tramite le immagini allora sono relegati a qualcosa di più leggero, non è sempre così, ma in questo caso particolare Lupin, poi, negli ultimi tempi, è anche diventato qualcosa di più leggero e destinato poi anche a un pubblico sicuramente, a un pubblico sicuramente più giovane, ma al suo interno c'è qualcosa veramente anche di, nei vari episodi, insomma, ci sono anche delle componenti particolari e molto interessanti. Ora, io quello che non sapevo, che ho scoperto appunto in questi giorni, è che Gigen fosse legato in modo così profondo da Zenit. E c'era qualcosa anche che non mi quadrava, all'inizio infatti non l'ho detto, viene detto che proprio questo è il primero, questo Zenit è il primero che viene, io ve l'ho messo in copertina, che c'è, si trova anche in due versioni, in due quadranti, quella nera e quella bianca, e io credevo che appunto, cioè c'era qualcosa che non mi convinceva, no, in tutto questo, perché appunto viene detto che l'episodio in cui si evince, cioè in cui si vede questo orologio, è proprio la prima serie. Ora però la prima serie noi sappiamo che è del 67, per cui se l'è il primero, e qui parliamo del primero, anche se poi è stato un po' rimaneggiato come disegno, perché qui si può, sono sparite la Z, quindi si legge Enit, cronografa automatiche, e poi il ternisse, insomma qualcosa così, quindi è stato modificato, non è stato proprio messo lì, Zenit, cronografa, però la struttura è quella, cioè anche il font è quello, per cui è chiaro, e poi comunque i contatori sono messi così, anche il datario è così, cioè non ci sono dubbi che questo sia un è il primero, e poi comunque insomma è molto evidente, ecco, però io credevo che fosse qualcosa che venisse da dopo, invece no, è proprio nella prima serie, quindi io deduco, ora io non sono un esperto di manga e in generale, quindi naturalmente neanche di questo, che questo particolare episodio faccia parte della prima serie, ma questa serie dura un po' di tempo, cioè esce, il disegno viene realizzato, insomma questo manga viene realizzato dal fumettista Monkey Punch, che appunto è uno pseudonimo, Monkey Punch si chiama Kazuhiko Kato, ecco però il nome d'arte è Monkey Punch, che lo crea, debutta nel 67, ora nel primero è del 69, quindi è lì che ho avuto un po' di dubbio, però c'è anche da dire, c'è anche da dire che la prima serie, Cartacea, prosegue fino al maggio del 69, quindi ok, maggio 69, lì siamo un po' nel dubbio, ma può anche essere che fosse, insomma, che Monkey Punch avesse visto, insomma almeno l'orologio fosse nella presentazione, e però dice due anni dopo, inizia la pubblicazione della serie Shinboken, che vuol dire nuove avventure, che prosegue fino all'aprile del 72, le due serie saranno poi raccolte in un'unica edizione, e quindi saranno considerate entrambe come la prima serie di Lupin III, per cui può darsi che sia la parte che va dal 71 al 72, che è, che questa, appunto, che questo, questo fumetto, insomma, che Zenith, che Jigen appare con lo Zenith, il primo, può essere, può essere benissimo, quindi ora mi torna, mi torna anche un pochino di più, ci ho messo un po', ecco, per cercare di capire, se effettivamente la cosa potesse avere un senso, oppure no. Quello che c'è da dire, credo, però, in questo, in, in questo momento, e che comunque va a corroborare quell'idea che abbiamo, che comunque sappiamo, del Giappone, è che il Giappone è un grande amante, grande amante dell'orologeria svizzera, insomma, noi oggi questo lo sappiamo, cioè, perlomeno, almeno, qualcuno di noi lo sa, probabilmente gli youtuber che hanno cominciato a aprire, che hanno iniziato ora a aprire un canale youtube, non lo sanno, ma insomma, glielo diciamo noi, che lo, il Giappone è un mercato importantissimo, per l'orologeria svizzera, e possiamo vedere che qui c'è proprio un richiamo, no, quindi al Zenith, insomma, nei primissimi anni, no, dove il Primero fu presentato, oggi il mercato giapponese è qualcosa di importante, anche da un punto di vista del vintage, io a Tokyo ho visitato parecchi negozi, sono ricchi, ecco di, sono ricchi di pezzi, no, io parlo di Breitling, parlo di, parlo di Yusui, parlo di Zenith, parlo naturalmente di Rolex, quindi c'è tanto, c'è tanto, il mercato giapponese è un mercato ricco, perché naturalmente in quegli anni lì sono stati dei compratori, insomma, sono stati un mercato, un mercato molto importante, no, anche oggi, anche oggi, se ci muoviamo in metropolitana, è facile scorgere degli Omega, degli Speedmaster, quindi anche oggi il mercato giapponese è un mercato ancora ricco per quanto riguarda, insomma, l'orologeria svizzera, ma anche l'orologeria svizzera, insomma, di un certo, di un certo pregio, ecco, quindi questo va un pochino a sostanziare anche quest'idea, no, che abbiamo del mercato giapponese. Ok, con questo video, insomma, ho fatto un po' un approfondimento, no, su questo, su questo punto e vorrei anche dire che a un certo punto questo, questo fatto, questo legame, no, tra un'azienda come Zenit, no, che comunque fa, che comunque rappresenta l'orologeria tradizionale, rappresenta l'orologeria classica, se ha una prima occhiata, può stridere il fatto che, comunque, e anche a me, sinceramente ha fatto ridere, cioè, comunque ti viene, ti strappa una risata, ma questo non c'è, non c'è assolutamente niente di male, che venga abbinato, diciamo così, al Lupin III, visto che Lupin III, oggi come oggi, è diventato un, veramente un manga, anche leggero, no, per giovani, eh, in effetti, però, invece, è qualcosa di importante, cioè, io sono d'accordo con Zenit, con questa, con questa operazione, insomma, che sta facendo, perché è un, è un riconoscersi, no, vicenda, dove un, dove un, un, uno scrittore, insomma, Monkey Punch, prende ispirazione, no, si riempie le proprie pagine, con la bellezza, proprio di questi, di questi segni a tempo, Zenit, e credo che da parte di Zenit, sia stata una bella cosa, insomma, dare, ecco, in cambio, la dedicare in cambio, no, anche se a distanza di tempo, questo, questo, questa serie limitata, perché poi sono 50 pezzi la prima, 200 pezzi la seconda, e poi 250 pezzi la terza, no, che riassume, diciamo, la prima e la seconda, quello con un quadrante bianco, e con un quadrante nero, ok, a questo punto, insomma, credo di aver detto, di aver detto, molto di più, rispetto al primo video, e come sempre, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo, alla prossima puntata, ciao a tutti,